Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi faccio un nuovo video sui prodotti della Games Workshop ed andiamo a parlare di tutte le novità, vi farò vedere un po' di immagini, che potete trovare direttamente sul sito della Games Workshop e anche sul sito costantemente aggiornato del nostro negozio sponsor che trovate, primo link in descrizione e sempre in sovraimpressione, gioco libreria Semola al miglior prezzo sul mercato e che ha sempre, sempre tutte le ultime novità in uscita della Games Workshop e a volte anche di più riuscite a trovare anche qualche prodotto che magari vi aveva ordinato diverse copie e magari qualcosa ancora in magazzino o è sempre reperibile. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Iniziando un po' a parlarvi delle novità sostanziali e più grandi portate appunto in questo fine 2021 in campo dalla Games Workshop che non dorme mai e sta iniziando a sfornare veramente 5-6 giochi all'anno anche scatole volendo proprio stand alone come abbiamo visto nel caso di Blackstone Fortress, Città Maledetta e tanti altri giochi ma sta continuando a sfornare anche espansioni per i giochi precedentemente usciti e non soltanto, anche nuove aggiunte, nuovi eserciti per i giochi di punta che sono Age of Sigmar e Warhammer 40.000. Ordinabile già da domani, ad esempio parlando di Kill Team, la nuova espansione che si chiamerà Kalnath e vedrà scendere in campo che vedrà scendere in campo due nuovi Kill Team che sono le Adeptas Ororitas noviziate e i Tau Pathfinder che sono quelli un pochino più noti e famosi se vi ricordate con le classiche armature, fucili lunghi e spesso e volentieri i droni che li seguono. La Game Board ha doppia faccia che potete girare e dietro c'è anche sistemi Vedic e un manuale di 96 pagine ovviamente con presente regolamento quindi è un altro set base se non avete preso l'ultimo Octarius ad esempio dove da una parte c'erano i reparti di squadroni della morte di Krieg contro gli Orchi, bellissimi tra l'altro, questo è un nuovo set di base che potete prendere per andare a giungere al gioco base o se vi interessano di più gli eserciti, le bande Kill Team che ci sono all'interno potete prendere anche direttamente quello lì. Parlando invece di Age of Sigmar stanno uscendo dei nuovi eserciti per il gioco di miniature non di schermaglie, non si parla di Warcry proprio il gioco di battaglie campali di Age of Sigmar stanno uscendo delle nuove aggiunte non dei nuovi eserciti delle nuove aggiunte per gli eserciti attuali ad esempio gli Stormcast Eternals ad esempio i Debellatori i Vigilords più miniature singole ad esempio nel set dei Debellatori e dei Vigilords ci sono dentro 10 miniature ciascuna per ogni set non ve lo sto nemmeno a dire ragazzi quanto sono belle la GV non ha veramente la parola non ha il confine alla perfezione, alla bellezza riescono sempre ad andare oltre infatti per me ora prendo una piccola parentesi le miniature più belle che hanno fatto finora di sempre sono gli ultimi Intercessor Primaris degli Ultramarine che boh sono tutto di quelle miniature singole che vi parlavo degli Stormcast Eternals c'è Bastian Cartalos che è il Lord Comandante c'è un'altra miniatura che è il Relitor Knight e poi il Questor Dacian Anvil tutti questi degli Stormcast Eternals stanno andando a ruba e sono le ultime scorte che c'è il nostro negozio sponsor gioco libreria Semola quindi nel caso li vogliate acquistare visto anche che sono miniature insomma abbastanza attiratura limitata e da collezione se li volete non ve li fate scappare perché io mi son fatto scappare dei pezzi veramente da urlo e ora non si trovano più a parte dai bagarini che te li vendono a 100 euro dal 6 novembre tra le nuove cose ordinabili ci sarà che ci ha tirato da morire anche il nuovo manuale del gioco di schermaglie adeptus titanicus che sono le battaglie fra i cavalieri e i titani di Warhammer 40.000 per ora sarà solo in inglese si chiamerà adeptus titanicus traitor legios e sarà ambientato nell'eresia di Horus 176 pagine di manuale con nuove regole nuovi scenari nuove campagne e immancabile ovviamente la lore ragazzi sta per finire l'Warhammer Day che è una commemorazione che va dal 29 di ottobre al 9 di novembre e ci saranno due miniature limitate della spesa dei 25-30 euro qualcosa del genere questa è proprio attiratura limitatissima perché sono per questo evento e che sono in particolare il Tenen Primaris con lo scudo tempesta che avete visto nella nuova scatola di Indomitus sono stati inseriti quelli scudi giganti per gli Space Marine che sono qualcosa veramente sono di bellissimo vederli con la spada potenziata e lo scudo da corpo a corpo se no c'è Anasta Malkorion che è la Vampire Lord tra l'altro è una miniatura bellissima per accontentare appunto anche tirare fuori una miniatura giustamente per l'altro loro gioco fantasy che è Age of Sigmar queste due miniature sono a tiratura limitatissima la giocolibreria Semola ce l'ha quindi consiglio spensierato visto che sono pezzi da collezione magari lasciate un po' da parte il resto però questi se siete collezionisti della GV non ve li fate scappare perché non si trovano assolutamente più io mi sono fatto scappare il sergente dei katasciani che era qualcosa di spettacolare non sono più riuscito a trovarlo ma almeno sono riuscito a prendermi il capitano degli ultramarine armatura ovviamente Mark 9 Uriel Ventris che è bellissimo e sono riuscito a prendermi anche il grandissimo e l'inquisitore Eisenhorn uno dei miei personaggi preferiti di tutto Warhammer 40.000 e avevano promesso che ci avrebbero fatto una serie su Netflix cosa che poi non è io penso sia stata accantonata comunque tutto quello che avete visto oggi di cui abbiamo parlato vi ho fatto vedere un po' di immagini e tutto quanto li trovate nel nostro negozio sponsor gioco libreria Simula che in tutti i video e primo link è in descrizione ma ve lo ricordo anche in sovraimpressione al miglior prezzo sul mercato ha un casino di scorte ha sempre tutto della GV c'è possibilità anche di ordinare magari qualche gioco che di cui non si riesce più a trovarne copia mandateli sempre una mail privata se un gioco che a voi interessa non lo trovate scrivete al supporto facendo presente che arrivate dal canale di Coridan spese gratuite sopra i 79 euro in 24 ore ordinate in variva a casa e usate sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% su tutti gli acquisti quindi ragazzi i prodotti della GV ora in questo fine anno sono sempre ricchissimi il piatto è veramente sempre bello zeppo di roba e sono curioso di vedere cosa annunceranno a gennaio a febbraio per appunto tutto quanto il 2022 ciao ragazzi alla prossima